questo pomeriggio proseguiamo nel studiare questo libro della genesi abbiamo iniziato ormai alcuni mesi fa un libro che è fondamentale un libro che abbiamo visto ci permette di avere una comprensione corretta di tutta la bibbia questo libro infatti introduce non solo l'antico testamento ma introduce tutta la scrittura la parola di dio inizia con i primi due capitoli che riguardano la creazione e la scrittura termina con due capitoli che riguarda la nuova creazione apocalisse 21 e 22 comprendere questo libro comprendere le verità bibliche che troviamo in questo libro è importante per una conoscenza sana del resto della scrittura abbiamo compreso che questo libro può essere diviso in due parti i primi 11 capitoli la prima parte poi la seconda parte dal capitolo 12 al capitolo 50 nei primi 11 capitoli che abbiamo già considerato la scorsa questa volta troviamo tre temi principalmente tre temi importanti sono questi la creazione dio che ha creato il cielo la terra l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza un altro tema riguarda il peccato ad amo ed eva che hanno commesso peccato l'uomo corrotto disobbediente e poi il giudizio di dio dio che ha giudicato ricordate attraverso il diluvio universale ha giudicato coloro che volevano costruire la torre di va bene in questi 11 primi capitoli abbiamo compreso che l'uomo è corrotto peccatore ed è sotto il giudizio di dio in questi 11 capitoli comprendiamo qual è la condizione spirituale di tutti gli uomini davanti a dio l'uomo è nemico di dio l'uomo è ribelle e questo punto ci siamo domandati qual è l'unica soluzione al peccato dell'uomo qual è l'unica soluzione per la riconciliazione dell'uomo a dio questo è quello che comprendiamo nella seconda parte di questo libro dal capitolo 12 al capitolo 50 la soluzione abbiamo visto la scorsa volta è questa l'intervento di dio dio che nella sua grazia incondizionata interviene per riconciliare l'uomo a sé genesi 12 infatti inizia parlando dell'elezione di abramo abramo scelto da dio nella sua grazia con lo scopo di generare un popolo che gli appartenga israele e con l'intento di benedire le nazioni attraverso abramo attraverso israele poi sappiamo attraverso soprattutto cristo discendenza ad abramo in questi capitoli dal capitolo 12 al 50 troviamo una dottrina fondamentale che ritroviamo nel nuovo testamento la giustificazione per fede abramo credetto a dio giustificato per fede di questo parla l'apostolo paolo in romani 4 in gale di 3 proprio ricordando la giustificazione per fede di abramo la soluzione al peccato dell'uomo è questo l'intervento di dio il patto abrahamico la scorsa volta abbiamo parlato del patto abrahamico questo patto che evidenzia quello che è il piano di redenzione e con questo patto che inizia questo piano di redenzione dio che interviene lui in modo incondizionato per riconciliare l'uomo a sé abbiamo compreso prima cosa l'essenzialità del patto abrahamico questo patto che ritroviamo in tutto l'antico testamento e in tutto il nuovo testamento fondamentale essenziale perché riguarda il piano di redenzione abbiamo poi considerato la natura del patto abrahamico in cosa consiste questo patto i benefici le promesse del patto abbiamo visto l'essenza del patto abrahamico un patto incondizionato un patto eterno e poi gli elementi del patto abrahamico la terra promessa la discendenza e la benedizione questo patto abrahamico che è in altre parole fondamento del piano di redenzione in cristo discendenza da abrahamico noi gentili ora salvati e giustificati per fede solo per ricordarvi questo in galati 3 quando l'apostolo paolo parla di questa dottrina la giustificazione per fede in galati 3 questo è quello che dice versetto 6 così anche abramo credete a dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia genesi 15 6 e poi giunge riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di abramo la scrittura prevedendo che dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede preannunziò ad abramo questa buona notizia in te saranno benedette tutte le nazioni questa è la promessa di genesi 2 3 che riguarda proprio la promessa fatta da abramo e che riguarda la salvezza dei gentili il vangelo si fonda su questo patto abrahamico la salvezza è sempre stata per sola grazia mediante l'intervento di dio dal capitolo 12 al capitolo 50 della genesi comprendiamo qual è l'unica soluzione per la salvezza dell'uomo corrotto sotto il giudizio di dio la soluzione e l'intervento di dio il patto abrahamico per questo pomeriggio vorrei considerare con voi altri tre temi importanti attraverso questa seconda parte della del libro di genesi dal capitolo 12 al 50 non potremo studiare versetto dopo versetto e vedremo alcuni brani alcuni di questi racconti che mettono in luce tre temi importanti che ritroviamo nel nuovo testamento che ritroviamo in tutta la scrittura e che riguardano la fida la fede e la vita dei credenti tre temi importanti che riguardano la fede specificamente la vita quotidiana dei credenti questi sono i tre temi che vedremo questo pomeriggio attraverso questa seconda parte della genesi primo tema la fedeltà di dio nonostante le mancanze dell'uomo la fedeltà di dio nonostante le mancanze dell'uomo secondo tema la natura della fede salvifica la natura della fede salvifica oppure la fede genuina del credente salvato terzo tema la divina elezione la divina elezione iniziamo con il primo tema la fedeltà di dio nonostante le mancanze dell'uomo la fedeltà di dio nonostante le mancanze dell'uomo in questo libro così come in molti altri libri della scrittura troviamo racconti storici racconti storici che descrivono le mancanze i peccati le debolezze e le disubbidienze degli uomini e dei credenti questo è quello che vediamo costantemente racconti storici che descrivono le mancanze i peccati le disubbidienze e le debolezze dell'uomo ora l'intento di questi racconti storici che specificano i peccati commessi da questi uomini da queste donne non è quello di giustificare il nostro peccato non è quello di giustificare le nostre mancanze di incoraggiarci a vivere nel peccato d'altronde anche abramo ha peccato sarah isacco giacobbe e così altri uomini sapete talvolta il credente potrebbe leggere questi versetti proprio perché potrebbe identificarsi e di conseguenza incoraggiarsi a a vivere la vita perché d'altronde questo è quello che fece abramo questi racconti storici evidenziano quella la condizione spirituale dell'uomo quali sono le debolezze le mancanze i peccati dei credenti mettendo in risalto però la continua pazienza la continua benevolenza misericordia e la continua fedeltà di dio alle sue promesse vorrei che questa in questo pomeriggio questa sera riflettessimo sul come leggere la bibbia questi racconti non leggere questi racconti come se fossero dei brani che ci devono portare in un certo senso a giustificarci questi racconti che specificano le mancanze di questi uomini hanno l'intento di mostrarci che è dio fedele alle sue promesse che dio misericordioso e che solo grazie al suo intervento che l'uomo è riconciliato a dio voglio mostrarvi per esempio in alcuni salmi quello che i salmisti scrivono riguardo proprio a questo alla continua fedeltà di dio nei confronti di israele per esempio il salmo 78 non possiamo leggerlo tutto salmo 78 la fedeltà di dio nei confronti di israele versetto 36 essi però lo adulavano con la bocca e gli mentivano con la lingua il loro cuore non era sincero con lui non erano fedeli al suo patto ma egli che è pietoso perdona l'iniquità e non distrugge il peccatore più volte trattene la sua ira e non lasciò divampare tutto il suo sdegno ricordando che essi erano carne un soffio che va e non ritorna la fedeltà di dio la sua misericordia il salmo 105 che conosciamo bene la fedeltà di dio verso israele salmo 105 versetti 8 fino all'11 egli si ricorda per sempre del suo patto della parola da lui data per mille generazioni del patto che fece con abramo del giuramento che fece a isacco che confermò a giacobbe come non statuto a israele come un patto eterno dicendoti darò il paese di cana come vostra eredità nonostante le mancanze del popolo di israele dio era fedele ed era la sua fedeltà alle sue promesse misericordia che è stato possibile per il popolo beneficiare delle sue promesse delle sue misericordie sempre in questo salmo 105 versetto 42 egli si ricordò della sua santa parola e anche da bramo suo servo fece uscire il suo popolo con letizia i suoi eletti con grida di gioia diedo loro le terre delle nazioni ed essi eritarono il frutto della fatica dei popoli perché osservassero i suoi statuti e obbedissero alle sue leggi alleluia dio fedele alle sue promesse nonostante l'infedeltà la disubbidenza la ribellione del popolo di israele salmo 106 ancora una volta qui presenta il salmista l'infedeltà del popolo di israele ma allo stesso tempo la bontà la benevolenza di dio versetto 44 tuttavia volse a loro lo sguardo quando furono in angoscia quando di loro grido si ricordò del suo patto con loro e nella sua gran misericordia si pentì fece sì che avessero compassione di loro tutti quelli che li avevano deportati dio fedele alle sue promesse nonostante le mancanze del popolo di israele l'antico testamento specificamente libro della genesi che mette in evidenza mancanze degli uomini non ha l'intento di incoraggiarci a vivere nel peccato ma di mettere risalto che dio è fedele alle sue promesse che dio è misericordioso e di questo vorrei parlare considerando la vita di abramo alcuni versetti alcuni brani per esempio in genesi 12 dopo aver ricevuto queste promesse al versetto 7 io darò questo paese il paese di canan alla tua discendenza che cosa accade subito dopo dal versetto 10 in poi venne questa carestia nel paese di canan e abramo scese in egitto per soggiornarvi perché la fame era grande nel paese abramo scelto in modo incondizionato che ricevette promesse da dio in modo incondizionato in questo brano come agisce come stava per entrare in egitto disse a sarai sua moglie ecco io so che tu sei una donna di bell'aspetto quando gli egeziani ti vedranno diranno e sua moglie essi mi uccideranno ma te lasceranno la vita di dunque che se mia sorella perché io sia trattato bene a motivo di te la vita mi sia conservata per amor tuo abramo per timore di essere ucciso ha mentito riguardo a sua moglie era la sua sorellastra lo sappiamo questo ma era sua moglie e ha mentito per timore nonostante dio aveva promesso una discendenza ad abramo questo paese di fronte a questa circostanza per timore disubbidì per timore mentì nonostante le promesse mentì per proteggere la sua vita come se dio non potesse farlo abramo venne umiliato dal faraone con le sue domande versetto 18 che cosa mi hai fatto perché non mi hai detto che era tua moglie perché hai detto a mia sorella così io l'ho presa per moglie era eccoti tua moglie prendila e vattene il farone comprende la gravità di quello che aveva fatto abramo abramo disposto all'adulterio a dare sua moglie al faraone per proteggere se stesso e senza pensare a lei ma pensando a se stesso questa immoralità pianificata abramo che si focalizza sulle sue circostanze reagendo in modo peccaminoso ma perché questo racconto è che specificare ciò che fece abramo è questo l'intento per mostrarci la fedeltà di dio le sue promesse nonostante le sue disubbidienze questo libro ci mostra che dio ha fatto delle promesse le manterrà ma non in modo condizionato nonostante queste mancanze dio benedì abramo infatti che cosa accade il farone diede alla sua gente ordine relativi ad abramo ed essi fecero partire a lui sua moglie tutto quello che egli possedeva che cosa eccole buoi asini servi e serve asini e cammelli che ricevette dal faraone qualcuno potrebbe dire grazie le sue bugie che ricevette quelle ricchezze risposte no disubbidì peccò ma dio nella sua grazia benedì abramo anche materialmente in questo brano troviamo che cosa che dio che ha fatto una promessa è colui che la mantiene e benedirà abramo così come ha promesso capitolo 15 capitolo 15 dio che promise anche qui questo discendente dice versetto 4 questi non sarà tuo erede ma colui che nascerà da te sarà tuo erede poi lo condusse fuori gli disse guarda al cielo e conta le stelle se le puoi contare e soggiunse tale sarà la tua discendenza egli credette al signore che gli contò questo come giustizia questa promessa che riguarda la sua discendenza da lui nascerà da abramo e sarà sua moglie cosa accade dopo dieci anni genesi 16 che cosa accade sarai moglie di abramo non gli aveva dato figli è sterile aveva una serva egiziana di nome adara sarai disse ad abramo ecco il signore mi ha fatto sterile ti prego vada la mia serva e forse avrò figli da lei abramo di ascolto alla voce di sarai così dopo dieci anni di residenza ad abramo nel paese di can sarai moglie ad abramo prese la sua serva agar l'egiziana e la diede per moglie ad abramo suo marito questo secondo il costume del tempo ma nonostante avesse ricevuto la promessa riguardo un erede abramo ascolta sarà aveva appena promesso dio che sarebbe nato da lui da abramo e sarà questo figlio tale sarà la tua discendenza come le stelle del cielo ma di fronte a questa difficoltà la stelità di sarà abramo ascolta sarà non considerando le promesse di dio seguendo il costume del tempo anziché ascoltare il signore sarà incredula perché era sterile nonostante la promessa di dio genesi 17 dopo 24 anni genesi 17 primi due versetti quando abramo ebbe 99 anni il signore gli apparve gli disse io sono il dio onnipotente cammina nella mia alla mia presenza e si integro e io stabilirò il mio patto fra me e te ti moltiplicherò grandemente signore veramente che lui è onnipotente lo esorta a camminare nell'integrità e ribadisce il suo patto di cui parlerà dal versetto 3 fino al versetto 8 ribadisce il suo patto stabilirò il mio patto fra me e te e tuoi discendenti dopo di te di generazione in generazione sarà un patto eterno il quale io sarò il dio tuo e della tua discendenza dopo di te cosa accade dopo che il signore ricorda che lui è il dio onnipotente versetto 15 dio disse ad abramo quanto sarai tua moglie non la chiamare più sarai il suo nome sarà invece sarà io la benedirò e da lei ti darò anche un figlio la benedirò e diventerà nazioni re di popoli usciranno da lei un'altra volta questa promessa un'erede da sarà abramo e sarà come reagisce abramo si prostrò con la faccia a terra rise e disse in cor suo nascerà un figlio un uomo di cent'anni si prostra ad adorare ma ride per incredulità a motivo della loro età abbiamo visto che disubbidisce mentendo per paura in genesi 12 per incredulità riguardo alla sterilità agiscono e si fa ad una serva abramo e ora qui di fronte all'età aveva 90 anni ancora una volta in credo della promessa e risponde cercando di aiutare dio dice o possa almeno ismaele vivere davanti a te e lui mio discendente e lui non posso avere figli cosa accade al capitolo 18 capitolo 18 versetto 9 così tre uomini davanti ad abramo gli dissero dove sarà tua moglie e gli rispose è là nella tenda e l'altro tornerò certamente da te fra un anno allora sarà tua moglie avrà un figlio sarà intanto stava ad ascoltare all'ingresso della tenda che era dietro di lui abramo e sarah erano vecchi ben avanti negli anni sarah non aveva più i corsi ordinari della donna le donne sarah rise dentro di sé dicendo vecchia come sono dovrei avere tali piaceri anche il mio signore è vecchio ecco l'incredulità di fronte alla promessa di di nuova promessa ribadita ricordata anche lei incredula al motivo dell'età sterile e ora anche l'età il signore disse ad abramo perché mai ha riso sarà dicendo parto di lei io per davvero vecchia come sono vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il signore ricorda il signore ad abramo che lui è onnipotente questo è quello che disse al capitolo 17 vi è forse qualcosa di difficile ecco le debolezze di abramo e di sarah che dimenticano la potenza di dio dimenticano chi è di dio attraverso questi racconti che ho letto brevemente vediamo le debolezze le infedeltà di abramo e di sarah ma perché per mostrarci che questo piano di redenzione dipende da dio l'uomo non contribuisce infatti che cosa accade dopo queste promesse capitolo 21 capitolo 21 nasce isacco come frutto di questa opera miracolosa sarah era sterile era vecchia ma dio è fedele dio è onnipotente le mancanze di abramo e sarah mettono risato la gloria di dio la sua fedeltà la sua onnipotenza la sua pazienza e misericordia ora attenzione non possiamo leggere questi versetti giustificando le nostre mancanze perché d'altronde la bibbia parla di ciò questo è quello che accade anziché leggere pietro che dice siete santi in tutta la vostra condotta leggiamo questi versetti fratelli leggere questi versetti hanno scopo e comprendere quanto dio è misericordioso questo piano questo patto dipendeva da lui non da abramo che ha dato sua moglie al farone mettendo fine al patto abrahamico se non fosse stato per dio l'appostolo paolo tra l'altro in prima corinzi 10 non posso leggerlo tutto ma in prima corinzi 10 ci ricorda che quello che abbiamo nell'antico testamento ha uno scopo 10 6 prima corinzi 10 6 ascoltate or queste cose avvennero per servire ad esempio noi affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro perché non diventate idolatri e poi dice affinché non fornichiamo verso 8 9 non tentiamo il signore verso 8 10 non mormorate l'intento di questi racconti è mostrarci che dio è fedele dio misericordioso ed è avvertire noi non fare la stessa cosa dio ha promesso questo figlio esaco a sara e questa nascita miracolosa capitolo 21 del genesi in accordo con l'elezione di abramo scelto sovranamente ora gli dà un figlio come frutta della sua opera miracolosa questa nascita miracolosa il figlio della promessa la conferma della necessità dell'intervento di dio per quanto riguarda il piano di redenzione l'uomo non contribuisce al piano di redenzione fin dal principio è dio dio che fa promesse nella sua fedeltà lei mantiene ma non grazie all'aiuto da parte dell'uomo infatti fa nascere questo figlio a sara che era sterile vecchia anche rebecca vedremo e rachele erano sterili e usa queste donne per addempere il suo patto per manifestare che lui lui è l'autore di questo piano salvifico questa nascita miracolosa la testimonianza della divina iniziativa per quanto concerne il piano di redenzione fin dall'inizio vediamo che dio che fedele alle sue promesse e tutto ciò che accade per quanto riguarda israele è per la sua grazia immeritata racconti che ci mostrano come delle fotografie le mancanze di abramo e di altri uomini ma con uno scopo dimostrarci l'amore di dio incondizionato le grazie e le sue promesse grazie alla sua opera sovrana grazie questa nascita miracolosa che ebbero questo figlio la fedeltà di dio nonostante le mancanze dell'uomo questo è quello che vediamo costantemente non solo in questo libro della cinesi ma in altri libri quando leggiamo questi libri questi racconti storici leggiamoli facendo attenzione a capire quale l'intento ribadisco per l'ennesima volta non per giustificare le nostre mancanze ma per mostrarci quanto dio misericordioso nonostante le nostre mancanze mantiene il suo patto non perché abramo ha contribuito o esacco giacobbe ma grazie al suo intervento divino vogliamo ora considerare un secondo tema importante che troviamo in questi capitoli la natura della fede salvifica la natura della fede salvifica oppure la fede genuina del credente salvato nonostante le mancanze di abramo se notate abramo in romani 4 viene presentato come fedele un uomo che aveva avuto fede che non vacillò romani 4 non contraddice i racconti che abbiamo appena letto i racconti che abbiamo appena letto sono delle piccole fotografie che mettono in evidenza circostanze specifiche ma ciò non significa che abramo non ebbe fede infatti vorrei considerare con voi questo racconto importante conosciuto genesi 22 perché si leggono spesso altri brani giustificando le proprie mancanze dimenticando di questo brano importante questo capitolo che ha suscitato paura e orrore addirittura soprattutto nei non credenti spesso i non credenti hanno screditato la scrittura disprezzandola usando questo brano fuori dal contesto per giudicare dio dio che chiede ad abramo di sacrificare il suo figlio quale orrore questo perché si legge la bibbia concecità questo è un brano importante che evidenzia la fede genuina del credente avere fede non significa che non ci sono momenti di debolezza di infedeltà la fede di abramo la testimonianza di quella che è la natura della fede salvifica ora in questo brano vorrei leggere come inizia questo racconto perché spesso non si legge il primo versetto e si estrapola questo racconto fuori da questo contesto versetto 1 dopo queste cose dio mise alla prova abramo se non leggiamo questa introduzione ma estrapoliamo quello che mosè scriverà riguardo al sacrificio finiremo per utilizzare quel messaggio in modo distorto come fai fanno i pagani il mondo quello che dio chiese era permettere alla prova abramo dio condanna il sacrificio dei bambini dio condanna deuteronomio 18 deuteronomio 18 capitolo 18 leggiamo questi versetti 18 versetto 10 12 non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio sua figlia per il fuoco né chi esercita la divinazione né astrologo né chi predice il futuro né mago né incantatore né chi consulti gli ispiti né chi dice la fortuna né negromante perché il signore detesta chiunque fa queste cose a motivo di queste pratiche abominevoli il signore il tuo dio sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te io condanna in modo categorico il sacrificio dei bambini capitolo 12 capitolo 12 versetto 29 quando il signore il tuo dio avrà sterminato davanti a te le nazioni che tu stai andando a spodestare e quando le avrai spodestate e ti sarai stabilito nel loro paese guardati bene dal cadere nel laccio seguendo il loro esempio dopo che saranno state distrutte davanti a te e dagli informati su loro dei dicendo come servivano i loro dei queste nazioni anche io voglio fare lo stesso non farai così riguardo al signore tuo dio poiché esse praticavano verso il loro dei tutto ciò che è abominevole per il signore e che egli detesta davano persino alle fiamme i loro figli le loro figlie in onore dei loro dei è un abominio è importante leggere questo brano leggendo che dio mise la prova bravo quello che accade dopo questa richiesta di sacrificare suo figlio esaco era per testare la sua fede dio condanna il sacrificio dei bambini infatti dio fa questa richiesta da bravo di sacrificare suo figlio uccidere il suo unico figlio più volte dice il suo unico versetto 2 12 16 il figlio della promessa sarebbe stata la fine del patto abrahamico una richiesta che andava contro le promesse del patto ma come risponde abramo come risponde abramo ubbidisce è pronto ad uccidere suo figlio in obbedienza a dio versetto 9 giunse al luogo che dio gli aveva detto abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna legò esaco suo figlio lo mise sull'altare sopra la legna abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio ma l'angelo del signore lo chiamò dal cielo e disse abramo abramo e gli rispose eccomi e l'angelo non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male ora so che tu temi dio perché non mi hai rifiutato tuo figlio l'unico tuo questo era un test un esame di abramo che manifesta una fede genuina l'ubbedienza della fede di cui parla l'apostolo Paolo questo è un brano importante un evento che testimonia dell'essenza della fede dei santi la fede dei credenti questa completa rinuncia di se stessi la volontà di ubbidire a dio costi quel che costi questo è il vero timore di dio dice ora so che tu temi dio non è un timore reverenziale basta morale ma è la volontà di fare ciò che dio dice costi quel che costi questa è la fede salvifica manifestata con la rinuncia completa di se stessi questa è la fede di cui parla Gesù quando le folle disse chi vuol essere il mio discepolo rinuncia a se stesso prenda la croce e mi segua il credente che disposto a qualsiasi cosa per amore del Signore infatti questo brano lo ritroviamo in due brani del Nuovo Testamento utilizzato per evidenziare la natura della fede salvifica ebrei 11 quando l'autore parla dell'essenza della fede certezza di cose che si sperano dimostrazioni di realtà che non si vedono cita degli esempi di fede tra i quali anche Abramo 11 17 per fede Abramo quando fu messo la prova offrì Isacco egli che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito eppure Dio gli aveva detto è Isacco che ti sarà data una discendenza Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche molti e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione questa è la fede del Bravo questa è la fede dei credenti ma non è l'unico brano che parla di ciò Giacomo Giacomo capitolo 2 Giacomo 2 Abramo versetto 21 nostro padre non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'attare tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa e così fu adempiuta la scrittura che dice Abramo credete a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio dunque vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto 26 come il corpo senza lo spirito è morto così anche la fede senza le opere è morta questo evento storico viene utilizzato nel Nuovo Testamento per mettere in luce la fede genuina dei credenti la totale consagrazione a Dio costi quel che costi in qualsiasi circostanza certo mancante in altre circostanze ma Abramo ebbe fede e dimostrò ciò al capitolo 22 disposto a sacrificare suo figlio nonostante quelle richieste quella richiesta andava contro le promesse di Dio era fiducioso in Dio questo brano al capitolo 22 di Genesi chiarisce chi sono i beneficiari delle promesse fatte da Abramo coloro che hanno la stessa fede di Abramo avere fede non significa non essere più mancante la fede servifica si manifesta con delle opere siamo mancanti c'è la volontà di sottomettersi a Dio rinunciando a noi stessi questo è l'amore per Dio questo è il vero timore di Dio quando c'è ubbidienza il Nuovo Testamento usa questo evento per evidenziare gli esempi di fede ebrei 11 evidenziare i credenti che erano perseguitati i giudei ebrei incoraggiandoli ricordate Abramo cosa fece per fede e così Giacomo che evidenzia che le opere manifestano se c'è una fede salvifica ecco la fede genuina del credente salvato la natura della fede salvifica terzo tema non solo la fedeltà di Dio nonostante le mancanze dell'uomo non solo questa fede genuina del credente salvato la natura della fede salvifica ma c'è un terzo tema che ritroviamo in questi capitoli e questo la divina elezione la divina elezione questa sezione di questo libro dal capitolo 12 in poi inizia con la divina elezione inizia con questa elezione Dio che sceglie Abramo sovranamente questo patto incondizionato per sua volontà ma troviamo questo patto anche nel resto del libro questo patto che inizia con la divina elezione e prosegue ribadisco prosegue con la divina elezione anche per quanto riguarda i discendenti di Abramo non solo Abramo scelto sovranamente ma anche i discendenti scelti sovranamente Abramo capitolo 12 scelto da Dio sovranamente Isacco scelto da Dio sovranamente nato come frutto di questa opera di questa opera divina questa opera miracolosa nasce da Madonna che era vecchia sterile Genesi 21 scelto da Dio sapete Isacco non era il primo genito di Abramo era Ismaele e secondo il costume era Ismaele il primo genito che aveva la priorità doppia realità il capofamiglia dopo la morte del padre ma Dio sceglie non Ismaele contrariamente al costume del tempo sceglie invece Isacco facendolo facendolo nascere da una donna sterile è vecchia è Dio che stabilisce la discendenza da Abramo Romani 9 Paolo parla di ciò lo vedremo fra un attimo è Dio che sceglie chi è il discendente non Ismaele primo genito ma Isacco Dio sceglie lui opera miracolosamente Sara che era sterile vecchia eppure Dio opera per addempiere le sue promesse questo è il suo piano questo è il patto abrahamico non solo Isacco scelto da Dio sovranamente questa nascita miracolosa ma Giacobbe in Genesi 25 Genesi 25 19 questi sono i discendenti di Isacco figlio di Abramo Abramo generò Isacco Isacco aveva 40 anni quando prese per moglie Rebecca figlia di Betuel l'arameo di Paddan Aram e sorella di Labano l'arameo Isacco implorò il Signore per sua moglie Rebecca perché ella era sterile ancora una volta sterile Dio usa una donna sterile questo è il suo piano il Signore le esaudì e Rebecca sua moglie concepì i bambini si urtavano nel suo grembo ed ella disse se così è perché vivo e andò a consultare il Signore il Signore le disse due nazioni sono nel tuo grembo e due popoli separati usciranno dal tuo seno uno dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore Dio che opera questa donna sterile la quale concepisce i due bambini gemelli e Dio chi sceglie il maggiore no il minore Dio sceglie chi è il discendente di Isacco non è Esau ma è Giacobbe il maggiore servirà il minore andando nuovamente contro il costume del tempo il primo genito il primo nato doppia eredità il capo famiglia dopo la morte del padre ma qui c'è un'inversione dei privilegi perché Dio benedice Giacobbe non Esau infatti al capitolo 27 Isacco stava per benedire chi? Esau per lui lui era primo genito lui era figlio della promessa ma che cosa accade Giacobbe inganna suo padre e suo fratello ma tutto ciò era nel piano di Dio il Signore non giustifica la sua vita peccaminosa il suo inganno non era superiore al fratello Esau ma è Dio che stabilisce chi è il discendente Abramo Giacobbe inganna il padre Isacco e il fratello Dio che opera sovranamente secondo i suoi piani nonostante e mediante il peccato di Giacobbe non giustifica il suo peccato ma nonostante il suo peccato e attraverso quel peccato Dio adempia la sua volontà questa è la divina lezione fin dall'inizio Dio agito per elezione fin dall'inizio Dio agito sovranamente scegliendo lui contro il costume del tempo pensate l'antico testamento termina parlando di questa lezione Malachia Malachia profeta ultimo libro capitolo 1 versetto 1 e 2 oracolo parola del Signore rivolta a Israele per mezzo di Malachia io vi ho amati dice il Signore e voi dite in che modo ci hai amati Esau non era forse fratello di Giacobbe dice il Signore eppure io ho amato Giacobbe e ho odiato Esau ho fatto dei suoi monti una desolazione e ho dato la sua eredità agli sciacalli del deserto qui il Signore specifica in che modo aveva amato in che modo aveva amato scegliendo sovranamente e incondizionatamente Giacobbe anziché Esau il primo genito il Signore ricorda al popolo di Israele che il suo amore si è manifestato in questo modo incondizionato scegliendo Giacobbe e i suoi discendenti come eredi della promessa questo è il modo in cui Dio ha sempre agito fin dall'inizio il patto abramico che ritroviamo in questo libro della Genesi è il fondamento del piano di redenzione è l'elezione divina è quello che vediamo per l'adempimento di questo patto ha scelto Abramo sovranamente benedicendolo nonostante le sue mancanze ha scelto Isacco anziché Ismaele il primo genito ha scelto Giacobbe anziché Ismaele il primo genito ha formato il suo popolo beneficiario delle promesse come risultato della sua divina elezione i Romani 9 i Romani capitolo 9 Paolo parla proprio di ciò in Romani capitolo 9 Paolo ricorda che le promesse fatte di Israele non sono accadute a terra sono ancora valide 9 6 però non è che la parola di Dio sia caduta a terra infatti dice non tutti i discendenti di Israele sono Israele qui evidenzia che non tutti i discendenti di Israele sono Israele c'è un Israele nel Israele i veri credenti e poi illustra il modo in cui Dio ha formato il suo popolo il discendente d'Abramo era Isacco non Ismaele il discendente era Giacobbe non Esau il primo genito Dio che agisce nella sua volontà sovrana illustra i Romani 9 Paolo che i discendenti delle promesse fatte da Abramo non sono i primogeniti necessariamente ma Dio ha benedetto Isacco e ha benedetto Giacobbe Dio ha formato il popolo di Israele beneficiario delle promesse sulla base della sua elezione divine sempre in Romani 9 Paolo ricorda ciò al versetto 10 ma c'è di più anche a Rebek avvene la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo da Isacco nostro padre poiché prima che gemelli fossero nati e che avessero affatto del bene o del male affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo elezione che dipende non da opere ma da colui che chiama le fu detto il maggiore servirà al minore come è scritto ho amato Giacobbe e ho odiato Esau prima che facessero qualsiasi cosa Dio aveva scelto Giacobbe è lui che sceglie sovranamente ha formato il popolo di Israele scegliendo lui non in base al costume del tempo attraverso questa nascita miracolosa e ha scelto Giacobbe anziché Esau tutto questo affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo e elezione il maggiore servirà e minore è Dio che ha scelto chi benedire è Dio che ha determinato chi benedire questa scelta di Giacobbe e di Isacco che evidenzia il proponimento di Dio secondo elezione Giacobbe era peccatore come Esau ma Dio ha scelto lui questo era il suo piano questa divina elezione come presenta Paolo Romani 9 che vediamo già in Genesi dal capitolo 12 in poi fino alla fine questa divina elezione per quanto riguarda la formazione del popolo di Israele ancora beneficiare delle promesse come vedremo al capitolo 11 quando dice e tutto Israele sarà salvato così come scritto versetto 28 per quanto concerne il Vangelo essi gli israeliti sono nemici per causa vostra ma per quanto concerne le elezioni sono amati a causa dei loro padri Dio che avrebbe benedetto questo popolo e che benedirà sempre in virtù della sua elezione questa divina elezione per quanto riguarda questo popolo il modo in cui lo ha formato per arrivare a dire che ci sono ancora promesse valide per Israele secondo l'elezione dimostra anche quella che è la salvezza dei gentili per elezione in Romani 9 ha parlato di questa elezione per mostrare che cosa gli è forse ingiustizia in Dio no di certo 9 e 15 poiché egli dice a Mosè io avrò misericordia di chi avrò misericordia avrò compassione di chi avrò compassione non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia la scrittura infatti dice al faraone appunto per questo ti ho suscitato per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole tu allora mi dirai perché rimprovera egli ancora poiché chi può resistere alla sua volontà piuttosto uomo chi sei tu che replica Dio la cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò perché mi hai fatta così il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile che c'è da contestare se Dio volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria cioè verso di noi che egli ha chiamato non soltanto fra giudei ma anche fra gli stranieri Paolo parla di questa divina lezione che riguarda Abramo che riguarda Isacco che riguarda Giacobbe e tutto questo in relazione alla salvezza dei gentili e dei giudei Dio ha sempre agito secondo la sua divina lezione sin dal patto abrahamico questo patto che è il fondamento del piano di redenzione l'elezione non è semplicemente una piccola verità del nuovo testamento che purtroppo alcuni di getro è una verità che troviamo fin dal principio fin dal principio questo patto abrahamico Dio ha sempre agito così e in questo capitolo 9 della lettera ai romani Paolo ricorda ciò per mostrare che lui è il padrone e che lui salva il suo piano di redenzione è determinato dalla sua divina elezione la sua opera sovrana in questa seconda parte del libro della Genesi da capitolo 12 al 50 questa sera abbiamo considerato tre temi importanti che riguardano la nostra vita e che ritroviamo nel nuovo testamento prima cosa abbiamo visto la fedeltà di Dio nonostante le mancanze dell'uomo Dio fedele Dio non agisce in base alle nostre circostanze le nostre azioni il suo piano dipende interamente da lui ha fatto delle promesse e le manterrà non solo abbiamo visto la fede genuina del credente salvato la natura della fede salvifica totale obbedienza consacrazione a Dio costi quel che costi e poi questo terzo tema la divina elezione questa scelta di Dio sovrana fin dal principio Bramo Isacco Giacobbe così noi Chiesa i credenti in Cristo sono temi importanti aspetti che ci permettono di conoscere Dio profondamente Dio è fedele alle sue promesse non agisce in modo condizionato dobbiamo rammentare ciò perché la scrittura evidenzia questo quando leggiamo le mancanze di Abramo Isacco e Giacobbe dobbiamo rammentare che noi siamo mancanti come loro ma Dio è fedele e lui adempierà le sue promesse lui è fedele le sue promesse anche per quanto riguarda noi Chiesa noi non cambiamo il suo piano agisce in modo conforme le sue promesse nonostante le nostre mancanze non significa che dobbiamo giustificarci ma questo ci incoraggia per ricordarci chi è Dio che agisce secondo la sua sovrana volontà ricordare questi due aspetti la divina elezione la divina elezione e la fedeltà di Dio le sue promesse nonostante le nostre mancanze ci incoraggia nella nostra vita quotidiana Dio è fedele Dio è sovrano la nostra salvezza è il frutto della sua divina elezione e della sua fedeltà non solo abbiamo visto questo terzo tema della fede la fede vera dei credenti e la stessa fede di Abramo una fede genuina un vero timor di Dio sottomessi a Dio costi quel che costi era mancante Abramo come noi siamo mancanti ma la fede del credente è la stessa la fede di Abramo come Paolo evidenzia i romani questa totale consacrazione a Dio sottomessi a Lui questi tre temi ci permettono di comprendere come vivere per fede consapevoli che Dio è fedele sopravmessi che Dio è misericordioso e che Dio è sovrano che Dio ci ha amati in modo incondizionato questo è quello che dimentichiamo ma la scrittura fin dal principio parla di ciò e che leggiamo la Bibbia in modo distorto potremo leggerla quasi giustificandoci quando vediamo mancanze anziché pensare a ciò che Dio fa nella sua fedeltà a misericordia nonostante le nostre mancanze dalla Genesi capitolo 12 divina lezione Malachia 1 divina lezione fino alla fine dell'Antico Testamento attraverso questi racconti ci ricordiamo di chi è Dio ci ricordiamo di chi è Dio per vivere fedelmente consapevoli della sua continua fedeltà misericordia del suo amore incondizionato e cosa ci riporta a considerare quello che abbiamo visto questa mattina giù da 24 25 la nostra salvezza è certa sicura per quale ragione perché siamo forti noi stessi non è questo quello che diamo nella scrittura non è questo quello che leggiamo nella scrittura ma perché Dio è fedele alle sue promesse Giuda che ha terminato la sua lettra affermando queste parole a colui che può preservarvi da ogni caduta e farevi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria al Dio unico nostro Salvatore per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore siano gloria maestà forza e potenza prima di tutti i secoli ora e per tutti i secoli amè ricorda chi è Dio e ricordandoci di chi è Dio così attraverso anche il libro della Genesi possiamo essere fiduciosi nel nostro cammino perseverare consapevoli che Dio è misericordioso fedele alle sue promesse colui che ci ha amato in modo incondizionato di chi possiamo temere Dio è fedele Dio è potente Dio è sovrano Dio è misericordioso cosa temere nella nostra vita nulla nulla fin dall'inizio nel libro della Genesi la scrittura ci rammenta le costanti mancanze dell'uomo ci rammenta che Dio è colui che ha dato inizio al piano di redenzione ed è lui che mantiene fedelmente questo piano era dimere i suoi la sua grazia nel suo amore incondizionato grazie a tutti